sembra che teresa di lisie pagina 21 città nuova le sue novizie la incomodavano opportunamente e inopportunamente la importunavano con delle domande indiscrete su ciò che scriveva sul manoscritto della sua vita o su qualche lettera a questo o a quel suo fratello spirituale non l'ho mai vista rispondere con impazienza bruscamente e neppure in modo sbrigativo era sempre calma e dolce commento sembra che teresa di lisie sia stata la guida mistica del cerchio firenze 77